L'incidente, il presidente della provincia Walter Catarra dice sono salvo grazie a San Gabriele. Sanità e polemica sui corsi per operatore socio-sanitario alla ASL, Manola Di Pasquale ne chiede la sospensione. Teramo, il Movimento 5 Stelle chiede la riduzione dei gettoni di presenza nella commissione di garanzia. La novità, il selfie sbarca nel marketing, gli studenti lo studiano all'Università di Teramo. E per lo sport calcio nel Teramo migliora a buon aiuto, ma non sarà disponibile contro il Sant'Arcangelo. San Severo, arbitro teramano picchiato da dirigenti e giocatori della squadra pugliese. Buongiorno e benvenuti all'appuntamento con l'informazione di Teleponte. Il presidente della provincia di Teramo, Walter Catarra, parla dall'ospedale di Giulianova dove è ricoverato dopo l'incidente di ieri pomeriggio con il suo scooter. Si ritiene miracolato e dice sono salvo grazie a San Gabriele. Nell'intervista che sentirete spiega perché non ha utilizzato l'Auto Blu, il servizio. Presidente Catarra, come sta questa mattina? Eh, indolenzito dappertutto e soprattutto inchiodato ad un letto con dei pesi in trazione. Ma come mai stava utilizzando il mezzo privato e non l'Auto Blu per andare comunque al lavoro in provincia? Sì, guardi, io tornavo intanto dal mio lavoro e poi andavo in provincia perché io tutti i giorni faccio questo percorso e siccome abbiamo deciso di non utilizzare più la macchina Blu che è di uso esclusivo del presidente, ma purtroppo in Italia le leggi le risposte le rispettano in pochi, soprattutto quelli che dovrebbero far rispettare e allora ho deciso di fare questa cosa. Con la mia automobile, non è il caso perché il facilimento è molto lungo, con molto traffico, insomma è troppo più complicato, invece ripartendo da Roseto passando per Notaresco e poi partendo per Teramo, insomma il percorso è più facile, più breve anche, più veloce più che breve, perché tanto breve non è ma è più veloce e quindi insomma avevo scelto di fare questa modalità. Però venivo dal mio lavoro, io sono nel liceo Saffo e poi l'incidente mi è successo fra Cologna e Notaresco, rifalendo dal liceo Saffo verso Cologna e poi subito dopo Cologna mi è successo il fatto. E adesso lei si dovrà operare prima di poter iniziare poi la fase della riabilitazione immagino? Sì 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 sì, dovrò subire un'operazione, c'è una frattura particolarmente brutta mi dicono, sul piatto tibiale e poi in ginocchio in condizioni pietose e poi un'altra piccola cosa, anche un'altra operazione che dovrò fare alla mano per un'altra frattura scomposta anche lì. Però per come è avvenuto l'incidente, per come si sono svolti i fatti posso dire che sono stato molto fortunato. Mi piace pensare che siccome domenica sono stato a San Gabriele ho firmato la bolla papale insieme al Presidente della regione, insieme all'eminenza Antonelli, mi piace pensare che probabilmente ci ha messo un dito anche San Gabriele. E ora una brutta notizia, è stato viva impressione a Teramo la notizia della scomparsa nella tarda mattinata di Gianfranco Ferraioli, dipendente comunale dell'ufficio tecnico del Comune di Teramo, in pensione, stroncato da un malore, molto probabilmente un infarto dopo essere stato in palestra. Ferraioli, 63enne, era molto noto in città per i suoi trascorsi nel basket cittadino, dove aveva ricoperto in più fasi il ruolo di dirigente accompagnatore e poi referente organizzativo della Teramo Basket, dai tempi della Serie B d'eccellenza fino alla Serie A con la Banca Tercas, da prima al fianco di Carlo Antonetti, del Presidente Antonetti e poi di Rino Pellecchia. Ferraioli al Comune di Teramo era stato addetto alle manutenzioni scolastiche del patrimonio comunale. Lascia alla moglie anche la dipendente comunale, due figli e il fratello Gustavo, noto cineoperatore e producer televisivo. A tutti i familiari le condoglianze sentite di Teleponte. Uno studente universitario abruzzese di 24 anni è morto travolto da un treno lungo la linea ferroviaria Siena, chiusi poco distante dalla stazione di Rapolano Terme, sul posto carabiniere e polizia municipale. Non si esclude l'ipotesi del suicidio. Il macchinista non si sarebbe accorto dell'urto, quindi il treno non ha fermato la sua corsa. A dare l'allarme ai carabinieri, alcuni turisti di passaggio su una strada vicina. La linea ferroviaria è poi rimasta chiusa per circa due ore. È polemica sui corsi di formazione che avrebbero permesso di ottenere i titoli necessari a partecipare a una selezione pubblica per operatori sociosanitari bandito dall'ASL di Teramo. La di Pasquale, consigliere comunale del PD a Teramo, è pronta a presentare il ricorso nonostante i contratti partirebbero dal 1 ottobre il servizio. È polemica sull'assunzione a tempo determinato di 50 operatori sanitari che dal 1 ottobre dovrebbero prendere servizio alla ASL. Un'assunzione che segue le selezioni pubbliche bandite all'inizio dell'anno, su circa 500 candidati ammessi dall'azienda sanitaria Teramana. La polemica verte sui requisiti, precisamente sul bagaglio di ore di formazione maturate dal personale per essere ammessi alla selezione. Secondo il consigliere del PD, Manola di Pasquale, ne occorrono mille, ma recenti disposizioni regionali hanno dato il via libera a corsi di formazione di 300 ore, utili al rilascio dei requisiti. Questo avrebbe fatto nascere incongruenze e disparità tra gli stessi operatori, specie per quelli che avrebbero maturato mille ore di formazione e che sottolineano disparità di accesso e nei presupposti alla selezione. La di Pasquale ha raccolto queste voci di dissenso, formalizzando la presentazione di un ricorso per procedere alla sospensione del concorso in autotutela e avanzando parallelamente richieste di revisione alla Regione sulla normativa che disciplina la formazione. Sto preparando un atto di autotutela per far bloccare questa candidatoria per ora, perché effettivamente questo problema di costa di 300 euro per operatori social sanitari che non rispecchia la normativa, ma ho preparato anche un documento che sarà trasmesso, è un documento di 10 pagine, quindi giuridico oltretutto, che verrà trasmesso alla Regione perché ho chiesto di rivedere la legge, la disposizione regionale che era ambigua e che quindi dava la possibilità a enti formatori anche privati di fare corsi solo di 300 ore, che non è possibile per la normativa nazionale perché devono comunque essere fatte da mille ore e quindi c'è una disparità sicuramente evidente di trattamento. Ma c'è un problema umano, cioè io credo che poi l'operatore socialitario è quello che sta vicino al paziente e quindi bisogna che abbia quella specifica professionalità richiesta dalla legge. Rinunciamo ai gettoni di presenza, tanto non abbiamo prodotto risultati e l'invito che Paola Cardelli, consigliere comunale a Terramo del Movimento 5 Stelle, ha formulato in polemica al termine di una commissione di garanzia convocata per analizzare le spese del comune e della Ateam, i dirigenti convocati tuttavia non hanno risposto all'appello vanificando lo scopo dei consiglieri riuniti per vagliare i centri di costo e il servizio. Nel merino del Movimento 5 Stelle finiscono i centri di costo del comune, il patrimonio immobiliare, la Ateam, gli impianti sportivi. Voi tuttavia denunciate l'impossibilità di monitorare i certificati, i documenti a disposizione e l'impossibilità da parte della commissione di vigilanza di far luce su questo. Nessuno di quelli che hanno stati chiamati in edizione sono presentati, tranne il dottor Furio Cognini, il responsabile del servizio sport, che ha dichiarato la propria incompetenza a rispondere e vorrebbe addirittura darci una lezione su come fare le edizioni, come presentare le domande ai vari dirigenti comunali o delle aziende partecipate. Allora, noi dalla prossima commissione, è stata rinviata un martedì prossimo alla commissione e vigilanza per discutere tutti questi tre argomenti insieme. Alla prossima commissione noi non ci alzeremo fino a che non saranno arrivati gli auditi e inoltre tutto chiediamo che nella commissione di ieri nessuno dei membri che vi abbia partecipato recepisca alcun che come gettone di presenza perché niente abbiamo combinato. La polemica è stata cavalcata anche dagli altri gruppi consigliari in una nota congiunta nella quale l'opposizione è stigmatizzato all'assenza di rappresentanti della Ateam. I bilanci consuntivi della municipalizzata e le modalità di servizio di ingiale ambientale sarebbero stati i temi su cui i dirigenti erano stati invitati a relazionare. L'assenza è stata bacchettata dall'opposizione che ha parlato di atteggiamento irrispettoso dei dirigenti alla luce dei costi esorbitanti che i cittadini sostengono per lo smaltimento. Avremmo voluto chiarimenti sulle differenze tra i dati della raccolta presunta su cui si basa la Tari e quelli della raccolta effettiva monitorata dall'osservatorio provinciale. Viste le pesanti ripercussioni sulle tasche dei cittadini, dicono i membri dell'opposizione, vorremmo un confronto. Invece questa assenza ingiustificata costringe i consiglieri a sottolineare la mancanza di rispetto verso la Commissione, il Consiglio Comunale e la città che esso rappresenta. La stessa città che ogni anno sostiene i costi di rifiuti e paga stipendi a dipendenti e dirigenti della Ateam. Una nuova convocazione è stata fissata per martedì 30 settembre sugli stessi argomenti. Ed ieri l'annuncio dell'assessore alla Polizia Municipale di Pescara sul pizio Adelchi di nuove azioni per contrastare il dilagare della prostituzione in via della bonifica a Pescara. I tempi di realizzazione delle nuove misure però, alla luce della situazione finanziaria del Comune di Pescara, non saranno brevi e i cittadini intanto lanciano l'allarme, il servizio. Pattugliamento potenziato e introduzione di un sistema di videosorveglianza. Sono i provvedimenti annunciati dall'Amministrazione Comunale di Pescara al termine della riunione del Comitato per l'Ordine e la Sicurezza in Prefettura per contrastare il degrado di via della bonifica. Zona tristemente nota per il fenomeno della prostituzione, notturna e talvolta persino diurna. Spesso le prostitute si spingono a ricevere i propri clienti nei cortili delle abitazioni e davanti ai portoni d'ingresso dei condomini, le SOS dei cittadini. Se esci la sera non trovo tutte queste ragazze qua, tutti mezzo, bottiglie per terra, una sporcizia, è diventato un quartiere bruttissimo. Io ad esempio la sera, quando è buio, chiudo a chiave perché vanno in giro le persone poco raccomandabili. Sicuramente a volte l'apparenza inganna, però sono delle facce che è meglio evitare. Naturalmente barattoli, roba in monnezza dappertutto, ma mai viste così tante? Mai viste? Niente da dire sul loro lavoro, ma effettivamente ne sono troppe, troppe. Non posso nemmeno dire che sia vergognoso perché mi dispiace pure per loro se magari devono fare questo tipo di lavoro per necessità. Però insomma che ci sia un posto un pochino più appartato, perché qui veramente è impossibile anche per i nostri figli, i ragazzi più piccolini che escono. È solo questo, il problema è grave. Restiamo a Pescara perché è stato illustrato proprio a Pescara dall'assessore all'ambiente della regione Mario Mazzocca. Sono state illustrate le novità contenute nel piano regionale dei rifiuti in materia di bonifiche dei siti inquinati sottoposti a procedura di infrazione. In arrivo dal Ministero 16 milioni di euro per la messa in sicurezza di 15 siti, ma le multe combinate dall'Unione Europea peseranno sulle casse degli enti locali in servizio. Presentato questa mattina a Pescara dall'assessore regionale all'ambiente Mario Mazzocca, l'adeguamento al piano regionale dei rifiuti, con particolare riferimento alla bonifica dei siti inquinati interessati da procedura di infrazione comunitaria. Ben 33 quelli individuati in Abruzzo, per i quali la regione dovrà pagare 7 milioni e 250 mila euro. Lo Stato italiano giustamente ha proposto un appello fornendo delle controdeduzioni a questa sentenza della Corte di Giustizia Europea, finalizzata un po' a prendere un po' di tempo e soprattutto a evidenziare il fatto che alcuni di questi siti non siano più inquinati o comunque a seguito dell'analisi non lo sono mai stati. E' anche il caso dell'Abruzzo che quindi vedrà ridursi a breve il numero di siti inquinati da 33 a 25. Questo non ci eviterà comunque di sottostare purtroppo alle sanzioni europee a cui verranno aggiunti altri importi, un importo di 256 mila euro per ogni giorno di ritardo su base nazionale ovviamente, di giorno di ritardo sulla mancata bonifica di queste discariche abusive che sono in giro un po' per tutto l'Abruzzo. Noi con un'azione forte svolta negli ultimi mesi nei confronti del Ministero dell'Ambiente e grazie anche a una conoscenza pedissegua di quelle che erano le nostre competenze in relazione alle realtà abruzzesi ci siamo fatti carico di questo problema ma siamo riusciti a farsi finanziare circa 16 milioni di euro per la bonifica di 15 siti per tutta la regione Abruzzo. I più importanti si trovano in Comune di Vasto e nel Comune di Penne ma sono dislocati un po' in tutta la regione. Oggi in giunta delibereremo l'ulteriore stanziamento per 5 siti sempre compresi nell'elenco per cui diciamo che da oggi cominciamo quasi a elidere questo problema che peserà in maniera importante sulle casse degli abruzzesi. E ora ci occupiamo di una iniziativa che ha fatto rimbalzare il nome di Teramo a livello nazionale e non solo. L'Università di Teramo sdogana infatti il selfie. Ieri a Scienze della Comunicazione la prima lezione del corso sul fenomeno dell'autoscatto condiviso sui social network. Vediamo l'intervista selfie alla docente del corso, la professoressa Raffaella Morselli. Professoressa Morselli, oggi facciamo un'intervista un po' particolare per inaugurare questo nuovo corso sul selfie. Come sta andando la prima lezione e come stanno reagendo i ragazzi? Dunque, i ragazzi sono molto stupiti. In un primo momento li ho visti diffidenti e poi invece portando esempi, bibliografia, commentando, entrando nel dettaglio delle singole parole, stanno reagendo molto e anzi ci sollecitano molto con ulteriori approfondimenti. Ma si sta insegnando come si fa un selfie? Cosa insegnerete ai ragazzi fino a novembre? No, no, no. E questo è quello che i social network hanno rimbalzato. Noi non insegniamo a farci un selfie. Io stessa mi sto riprendendo ma non so in che modo. Noi stiamo cogliendo un segnale dal mondo della società e anche delle arti, perché è quello che ci interessa e stiamo cercando di analizzare il selfie come fenomeno all'interno anche dell'evoluzione artistica dell'arte contemporanea. Ragazzi, anche con voi oggi facciamo un'auto-intervista per questa prima lezione sul selfie. Come sta andando? Vi piace la lezione? Sì, allora la lezione è molto interessante e soprattutto per noi che appunto ci accingiamo a iniziare la magistrale è importante capire quali siano i collegamenti tra appunto i selfie, il social media marketing e appunto l'attività di valorizzazione del territorio attraverso appunto anche ricorso a una pratica che è quotidiana ma che insomma è molto molto utile più di quanto possiamo immaginare. Ma al di fuori dell'università voi i selfie, quanti ve ne fate e come ve li fate? Eh tantissimi, poi ognuno ha le proprie tecniche di personalizzazione. Io ho una passione per la fotografia che coltivo come hobby, quindi li utilizzo spesso anche come backstage diciamo delle foto che realizzo, però ne vedo tantissimi ogni giorno. E tu invece? Anche io trovo questo corso molto interessante, anche capire qual è l'origine delle selfie, quindi andando a vedere tutti gli autoritratti, i primi autoritratti fotografici che poi hanno portato diciamo al selfie come lo intendiamo oggi. Il Festival di Danza Interferenze quest'anno si sposta al carcere di Castronio di Teramo. Sabato mattina otto detenuti saranno coinvolti nella performance di danza teatro Il Coraggio di Stare. Vediamo il servizio. Eleonora Coccagna, quest'anno il Festival di Danza Interferenze si sposta al carcere. Farete ballare otto detenuti sabato mattina. Allora lo spettacolo inizierà intorno alle 10, 10 e un quarto di mattina perché accoglierà il pubblico proprio alla black box, l'ingresso del carcere. E da lì ci sarà tutto un percorso di suggestioni perché i danzatori accompagnano il pubblico fino al teatro perché questo carcere ha un teatro. Ahimè sì è vero, incredibile, non ce l'abbiamo in città, ce l'abbiamo in carcere. Il teatro è stato un po' stravolto, abbiamo cambiato le sedute, insomma è stato veramente un'opera di grande allestimento. Però diciamo che loro arriveranno in teatro e potranno assistere a quello che è poi una performance multidisciplinare che si divide tra danza e video installazioni, video mapping. Quindi sotto il profilo artistico, super innovativo, è davvero un bel prodotto. Direttore Liberatore, dopo l'apertura dell'alberghiero e dell'agrario, un'altra iniziativa qui al carcere di Teramo, questa volta legata alla danza e al teatro. Si chiama Il Corpo Pensante, il titolo di questo progetto che ci è stato avanzato dall'associazione LECT. L'abbiamo accolto con uno spirito di entusiasmo notevole perché riteniamo noi tutti operatori penitenziari che attraverso queste iniziative culturali e che hanno anche qualcosa in termini di svago e di puro rilassamento, l'obiettivo di recuperare concretamente tutti i detenuti. Lo facciamo attraverso un'attività di recupero della loro responsabilità che passa attraverso la conoscenza di valori etici, non solo estetici, culturali e con l'interscambio di vedute. Ed ora una notizia curiosa che può rivelarsi utile online, infatti, il semaforo dinamico per aiutare gli utenti teramani a scegliere l'ufficio postale più vicino e le fasce orarie con minore affluenza. Il semaforo è consultabile dal computer, dal pc, dal tablet, dagli smartphone, nella sezione cerca ufficio postale del sito www.poste.it. Gli sportelli della città di Teramo mappati sono quattro, quelli di via Paladini, via Le Crucioli, via Noelucidi e via Pannella. Il sistema è pensato per indirizzare il cliente nella scelta di giorni orari in cui recarsi allo sportello e indica anche le previsioni dei flussi mensili di utenza, sia per singolo giorno che nelle diverse fasce orarie, attraverso i tre colori tradizionali del semaforo. Oltre a questa informazione è disponibile anche una mappa completa di indirizzi e orari. Un segretario donna per la sezione provinciale di Teramo dell'Associazione Nazionale Partigiani. Si tratta di Sabrina Evangelista. Il servizio. Sabrina Evangelista è la nuova segretaria provinciale dell'Ampi Teramo. Sostituisce il dimissionario Mirko De Berardinis. Intanto la novità è che c'è una donna alla guida dell'Associazione. Eh sì, visto che il ruolo delle donne in questo paese è un po' limitato, devo dire che l'Ampi Provinciale di Teramo in questa è stata innovatrice. Perché ha accettato questo incarico? Ho accettato perché da sempre ho creduto nei valori dell'antifascismo e della resistenza e inoltre anche perché personalmente mi occupo comunque di fascismo, di propaganda e di leggi razziali, quindi c'è anche un interesse prettamente personale oltre che un impegno etico. È un'associazione particolare? Molto particolare, soprattutto perché è un'associazione diciamo che è a maggioranza fatta da persone adulte, quindi diciamo la mia aspirazione anche come nuovo segretario è quello di portare il più possibile giovani. L'Ampi a livello provinciale organizza diverse iniziative a parte le ricorrenze a quelle tradizionali storiche? Sì, diverse iniziative in particolare con le scuole perché non solo a mio avviso ma anche dell'associazione è chiaro che ormai il passaggio di testimone della memoria va dato ai giovani, quindi è chiaro che la collaborazione con le scuole è assolutamente essenziale. L'ambasciatore dell'Albania in Italia, Neritan Ceca, domani sarà in visita alla città di Teramo. Alle 9.30 l'ambasciatore parteciperà al convegno Albania ed Abruzzo, si presentano in programma nell'aula tesi dell'Università di Teramo al campus di Costa e Sant'Agostino. Poi alle 12 si terrà invece l'incontro istituzionale nella sala consigliare del Comune. L'ambasciatore sarà accolto dal sindaco di Teramo, Maurizio Brucchi, dal vescovo di Teramo e Atri, Michele Seccia e dalla presidente dell'associazione interculturale Iris, Silvana Xeneti. La visita si concluderà nel pomeriggio di domani con un altro incontro alla sede dell'istituto zooprofilattico di via Campobuario, sempre a Teramo ovviamente. Verrà presentato venerdì prossimo a Teramo alle 17 presso la Sala San Carlo del Museo archeologico il libro Le storie di Sor Paolo Proconsole, scritto da Luciano Lamolinara. Abbiamo intervistato l'autore. Le storie di Sor Paolo Proconsole sono raccolte in un libro di Luciano Lamolinara. Perché ha deciso di raccontare Sor Paolo che è un po' il simbolo di Teramo? Sor Paolo è preso un pochino come pretesto perché siccome ho vissuto 20 anni a Teramo, ma soprattutto i primi dieci nella zona di Porta Romana, Sor Paolo Proconsole è uno dei simboli di Teramo, allo stemma di Olo Parlare a giomisura. Per cui mi è sembrato quello più indicato per ambientare un pochino tutte le storie. Cosa racconta in questo libro? Qual è la particolarità di questo libro? La vita. La vita in archi di tempo dal 55 ai nostri giorni. I personaggi disegnano attraverso le loro vicende le situazioni anche storiche, sociali e sociologiche che fanno da sfondo. E quindi è un modo anche per vedere come è evoluta la società, come è cambiata fino ai nostri giorni. Ma è un libro di fantasia oppure ci sono anche dei fatti realmente accaduti? Ci sono anche riferimenti accaduti e quindi si parte sempre anche indirettamente dallo sfondo autobiografico, è quello imprescindibile. E poi le esperienze un pochino sono quelle riprese anche da situazioni vissute o viste a vivere o comunque in cui mi sono trovato in qualche volta a essere da spettatore. E dove è possibile trovare questo libro? Beh, adesso sarà presentato il venerdì alla Sala San Carlo del Museo Civico e poi sarà distribuito le librerie di Teramo tramite l'artemia di Idrice che cura la stampa e la diffusione. Successo di pubblico per la collettiva fotografica Chi dice donna dice dono promossa dall'associazione Federica e Serena per raccogliere fondi da destinare al centro antiviolenza alla Fenice di Teramo. Dopo i tanti visitatori dello scorso weekend è stato dunque deciso di prorogare fino a domenica 28 settembre l'apertura della mostra ospitata presso il Museo archeologico Savini in Via Delfico a Teramo. La collettiva raccoglie gli scatti di sette fotografi incentrati sulla figura femminile. Finora sono stati raccolti mille euro per il centro la Fenice che saranno utilizzati per realizzare un progetto di sensibilizzazione sul tema della violenza sulle donne rivolto agli studenti. E adesso prima della pagina sportiva andiamo a scoprire insieme le previsioni del tempo per le prossime ore con Meteoteramo.it Previsioni per oggi in Abruzzo. Al pomeriggio nuvoloso con deboli piogge sui massicci appenninici, poco nuvoloso sulle aree orientali, in serate nella notte parzialmente nuvoloso per stratificazioni alte con deboli piogge sui settori interne e sui rilievi, parzialmente nuvoloso sui settori marittimi, temperature in aumento, massime comprese tra 21 e 24 gradi nelle conche aquilane e marsicane, tra 23 e 26 gradi sulle pianure adriatiche, venti deboli sud orientali, mare quasi calmo, in provincia di Teramo al pomeriggio moderatamente nuvoloso su gran parte del territorio provinciale con possibilità di deboli piovaschi in transito sui settori interni, in serate nella notte variabile, temperature in lieve aumento, massime comprese tra 23 e 26 gradi nelle pianure dell'entroterra, tra 24 e 27 gradi sulle coste, venti deboli o moderati orientali, mare quasi calmo, poco mosso. Eccoci al Tg Sport, cominciamo con il calcio, doppia seduta di allenamento in casa Teramo Calcio, tra i biancorossi sono in via di miglioramento le condizioni di buon aiuto, ieri pomeriggio l'esterno si è sottoposto ad un'ecografia di controllo alla gamba infortunata, l'esame ha dato un risultato positivo per cui quest'oggi il giocatore si è aggregato con il resto del gruppo, la sua presenza nella prossima trasferta di Sant'Arcangelo è comunque da escludere. A proposito della partita di Sant'Arcangelo abbiamo ascoltato Nicola Fiore, l'intervista. Sicuramente lo stiamo vivendo bene perché venivamo appunto da due sconfitte, adesso siamo riusciti a inanellare queste tre vittorie, però sappiamo anche che siamo all'inizio del campionato e quindi non bisogna illudersi ma bisogna rimanere con i piedi per terra e cercare di ripetere le buone prestazioni che abbiamo fatto e soprattutto come abbiamo fatto nelle ultime partite, fare meno errori e continuare però a creare occasioni da golle e a fare bene. Sicuramente sono abbastanza soddisfatto, so che posso fare di più e quindi sicuramente non posso accontentarmi ma la cosa più importante non è il singolo ma è il gruppo e quando la squadra riesce a fare dei risultati importanti è meglio per tutti. Allo stesso tempo so che posso dare ancora di più e fare anche meglio. Come stiamo giocando è necessario correre molto e quindi dare un grande contributo anche in fase difensiva e magari questo può far perdere lucidità in fase offensiva, però comunque soprattutto nelle ultime partite siamo riusciti a fare bene anche sulle fasce, a esprimerci bene quindi dobbiamo continuare così però sapendo che possiamo ancora migliorare. La concorrenza quest'anno è uno stimolo che tu avverti ancora di più? È normale, nel calcio c'è sempre la concorrenza, quindi così anche a Teramo, quindi ognuno cerca di fare il massimo quando viene chiamato in causa. Venerdì prossimo presso il loggiato che si trova sotto piazza Belvedere a Giulianova Paese il nuovo presidente del Giulianova Calcio Antonio Esposito incontrerà i tifosi giallorossi. L'incontro voluto dallo stesso Esposito servirà per illustrare alla cittadinanza i programmi futuri della nuova proprietà del club giuliese. Intanto il nuovo direttore sportivo Morris Carrozzieri che ieri è stato presentato alla stampa insieme al nuovo allenatore del Giulianova Fabiano promette rinforzi per la squadra. Si è svolta ieri al campo comunale Dino Besso di San Nicolò la giornata di approfondimento per preparatori di portieri di calcio. Alla manifestazione hanno partecipato 23 tecnici tra preparatori dei portieri e allenatori di calcio delle regioni Abruzzo e Marche. Cattive notizie in casa a Chieti e restiamo in serie D. Il difensore Alessandro Rapino ha riportato una lesione alla bicipite femorale e dovrà rimanere fermo per circa un mese. Ma la sfortuna teatina non finisce qui perché anche l'attaccante Arcamone dovrà fermarsi per 20 giorni a causa di uno stiramento. Infine per quello che riguarda il mercato Adolfo Gerolino ha firmato con la propatria e non sarà quindi un giocatore del Chieti nonostante tutto il periodo in cui il difensore si è allenato con la compagine nero-verde. Brutta avventura per l'arbitro della sezione AIA di Teramo Daniele Paterna. Domenica scorsa nel corso di San Severo Monopoli partita valida per il campionato di serie D, girone H e che era stata affidata proprio a Paterna, il fischietto Teramano è stato aggredito a calci e pugni dai dirigenti e dai calciatori della squadra locale. Tutto è accaduto sul finale del match Paterna sul punteggio di 1-0 per il San Severo, nell'ultimo dei nove minuti di recupero assegnati ha sanzionato un calcio di rigore in favore del Monopoli, rigore poi trasformato. Questa decisione ha scatenato la reazione dei dirigenti di casa che hanno accerchiato il fischietto Teramano colpendolo ripetutamente con calci e pugni. In conseguenza di questo episodio il presidente, il vicepresidente, cinque dirigenti e il medico sociale del San Severo sono stati raggiunti dal DASPO, il provvedimento di interdizione da ogni manifestazione sportiva. Seconda giornata di campionato per Berretti, allievi e giovanissimi del Teramo Calcio. In questo turno Berretti e giovanissimi hanno disputato due derby rispettivamente contro l'Aquila e il Pescara. Gli allievi invece hanno giocato contro la Casertana. Facciamo il punto di questi tre campionati giovanili con questo servizio. Prosegue la stagione sportiva per il settore giovanile del Teramo. In questa seconda giornata Berretti e giovanissimi hanno affrontato due derby rispettivamente contro l'Aquila e Pescara, mentre gli allievi se la sono vista con la Casertana. Per i ragazzi della Berretti è arrivato un pareggio, 2-2 in casa dell'Aquila al termine di un match combattuto e giocato alla pari. Ai Biancorossi in vantaggio con De Gidio hanno risposto gli Aquilani, prima con Ceccarini e poi con Desi, rovesciando di fatto il risultato. Il meritato gol dei diavoli è arrivato al 27esimo del secondo tempo con Di Teodoro. Per quello che riguarda il campionato allievi nazionale invece, al Bonolis il Teramo ha dominato la Casertana vincendo per 3-0. La sfida contro un avversario molto fisico è stata vinta meritatamente. I gol sono stati messi a segno tutti nei secondi 45 minuti. Al terzo ci ha pensato Rinaldi, al ventiquattresimo Fabrizi e al quarantesimo su calcio di rigore Calderaro. Infine i piccoli diavoli di Gigi Perleoni hanno pareggiato 1-1 con il Pescara. Il vantaggio è già a Biancorosso al quinto minuto grazie alla rete di Fagioli, ma dieci minuti dopo al quindicesimo arriva anche il gol del pari di Di Federico. In generale comunque è un pareggio che va stretto a Biancorossi per via delle occasioni create. Nel prossimo turno la Berretti osserverà il turno di riposo. Gli allievi andranno a far visita alla Lupa Roma e i giovanissimi ospiteranno l'AS Roma. Il basket. Nella giornata di oggi il Palamaggetti di Roseto sarà pronto ad accogliere il nuovo Roseto Sharks. I biancazzurri infatti sosterranno il loro primo allenamento tra le mura amiche alle 18 dopo essere stati costretti a disputare tutte le amichevoli pre-season al Palasport di Atria a causa dei lavori di ristrutturazione del parquet del Palamaggetti di Roseto. La Rarinantes Teramo comunica che la piscina comunale coperta di Teramo riapre oggi la piscina aperta dal lunedì al sabato con orario continuato dalle 9 alle 20 e 30. Tra le tante novità studiate a favore della clientela la più importante è il corso per assistente bagnante, un corso che garantisce ai partecipanti 5 punti per i corsi di militari e vigili del fuoco. Bene, è davvero tutto per questa edizione del nostro telegiornale. L'appuntamento con informazioni di Teleponte tornerà questa sera puntuale alle 19 e 15. Grazie, arrivederci. Grazie.